Il più grande fuoco buono del Mediterraneo è pronto a bruciare per uno spettacolo che quest'anno sarà ancora più luminoso, diventando uno degli eventi più importanti del Salento e non solo. Sindaco, tutto pronto per la Focara di Novoli 2024? Siamo già al lavoro da tre mesi perché l'accensione è il 16, però grazie ai volontari e al comitato in queste ore sono ancora al lavoro sia tra le campagne che in piazza di Toschiva per la realizzazione di questo evento. Siamo pronti, quest'anno siamo stati patrocinati dal Ministero del Turismo, quindi è un evento eccezionale per la comunità di Novoli. accanto al Ministero del Turismo, il Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia di Lecce e Unione dei Comuni del Nord Salento. A questi poi aggiungiamo dei partner molto importanti come il GAL, Valle della Cuba e la Camera di Commercio. Presidente, il primo grandissimo evento del 2024, la Focara di Novoli, sempre più internazionale? Come ogni anno apriamo l'anno con un evento straordinario che ormai ha valicato i confini del nostro territorio e che diventa la Focara più importante d'Italia, musica, spettacoli, eventi, tradizione, che si unisce alle peculiarità del territorio e che racconta il territorio attraverso un evento. Quindi tutti a Novoli per guardare l'accensione, tutto ciò che c'è intorno alla Focara di quest'anno. L'amministrazione ha fatto un grande lavoro e noi come istituzione del territorio accompagniamo questo lavoro che è anche di promozione del nostro Salento. Grazie.